Ma c'è qualcuno che seriamente mette in discussione la leadership di Di Maio all'interno del Movimento 5 Stelle? Molti, tanti, lo ha fatto Barbara Lezzi in aula prendendosi gli applausi, lo dicevamo sull'ILVA, ma lo fanno adesso moltissime persone, lo fanno dalla base. Hai visto questa decisione di non correre alle regionali in Emilia Romagna e in Calabria, che non è ancora definitiva ma è una grande tentazione. Alcuni lo hanno detto a Di Maio, Di Maio dice sì, forse è meglio così. E già ci sono tutti gli attivisti di quelle regioni là, arrabbiati in questo momento, sono quasi tutti contro Luigi Di Maio, quindi davvero non serve aggiungere... Vedremo come andrà avanti nei prossimi...